Off camera io cercherò di finire la decorazione di ogni singolo lato di questo cavolo di palazzo dello Yarla. Io vi chiedo nuovamente aiuto per quello che concerne il tetto di questo palazzo perché mi fa altamente schifo al momento. E spero di riuscire a fixare tutto quanto in vista del prossimo episodio. Tuttavia quel fatidico prossimo episodio non venne mai registrato. La mia serie di Minecraft Vanilla venne interrotta e il mondo finì nel dimenticatoio. Di fatto è rimasto lì fino ad oggi, giovedì 29 agosto 2019, giorno in cui, dopo un sacco di tempo, andremo finalmente a riaprire il mio mondo di Minecraft Vanilla. Hola splendori e benvenuti a questo nuovo video di Minecraft che, come immagino abbiate potuto capire, sarà leggermente diverso rispetto al solito. Infatti andremo a fare una sorta di tour del mondo di Inia, che si scrive Eitne ma si legge Inia, il gaelico è una lingua strana. Prima di cominciare con il tour ho bisogno di fare una precisazione, in realtà due. La prima è che non sono effettivamente passati due anni dall'ultimo episodio della mia Vanilla. Infatti è passato circa un anno e mezzo, ma arrotondare a due fa più figo. Mentre la seconda riguarda il fatto che, in tutto questo tempo, di fatto il mondo di Inia io l'abbia aperto più volte e abbia anche fatto delle modifiche. Da un paio di settimane a questa parte, infatti, ho ripreso la serie di Minecraft Vanilla sul mio canale Twitch. Canale Twitch dove sono in live tutte le sere tranne il sabato, a partire dalle ore 7, e in particolar modo questa sera, a partire dalle ore 7, sarò in live proprio sul mondo di Inia. Il link l'ho trovato all'inizio della descrizione e nel commento pinnato in alto, io vi aspetto numerosi. Ciancio alle bande, è giunto il momento di entrare nel mondo di Inia. Signore e signori, bentornati a Frigeria. Ma come, Tirless, fino a due secondi fa hai detto che il mondo di Minecraft si chiama Inia, perché hai detto Frigeria? A questo ci arriviamo tra un attimo, perché il mondo in questione ha una storia molto complicata e intricata. In ogni caso, immagino che moltissimi di voi, vedendo questa stanza incredibilmente spoglia, abbiano provato una nostalgia davvero fortissima. Per tutti quelli che invece stanno vedendo questo mondo per la prima volta, sappiate che questa qua è la mia stanza all'interno della città di Frigeria nel mondo di Inia. E questo perché il mondo di Inia, in realtà, non è il mio mondo. O meglio, è il mio mondo, ma non è un mondo come tutti gli altri. In questa serie, infatti, volevo andare a costruire una sorta di mondo organico, con tante piccole città sparse in tanti diversi biomi, che si distinguono l'una dall'altra per storia, cultura e commercio. Non avrei avuto soltanto una base a cui lavorare, avrei avuto un intero regno. E in questo momento ci troviamo nella città di Frigeria, e il motivo per cui ho scelto questo nome è davvero molto molto semplice. La città di Frigeria si trova infatti in una landa ghiacciata, ed è stata la prima, e di fatto anche l'unica, città a cui io abbia lavorato. E tutto questo a partire dalla mia abitazione. Molti di voi probabilmente si aspettavano che quella laggiù fosse la mia casa, e invece no, perché quello è il palazzo dello Jarl, ossia il governante di questa città, mentre la mia casetta è questa qui alle nostre spalle. Ho cercato di adottare uno stile seminordico quando sono andato a costruire tutto ciò che troverete all'interno di questa città, ma non è tutto, perché come potete vedere, ho cercato di utilizzare dei blocchi parecchio inusuali per la costruzione delle case, ossia il granito e soprattutto la diorite, che prima che aggiornassero le texture nella 1.14 era davvero un blocco orribile. In ogni caso la mia casupola è davvero molto modesta. Abbiamo infatti una mini cucina attaccata al tavolo e due sedie, nulla di più. Sopra, come avete già visto, c'è la stanza da letto, mentre al piano di sotto c'è un magazzino davvero enorme. Magari non è neanche tanto grande, ma ci sono un'infinità di cest. Precisamente qua dentro ci sono 440 cest, 220 doppie cest. Non ho occupato tutte quante le cest, perché ci sono dei materiali che non ho mai raccolto, come il legno della giungla, quello di acacia, quello di dark oak, o anche semplicemente la red sandstone. Però tecnicamente questa qui sarebbe dovuta essere la mia casa principale. Ipoteticamente sarei andato a costruirmi una piccola casa in ogni singola città, ma questa qua sarebbe stata quella principale, quella a cui facevo ritorno ogni volta. Motivo per cui ho creato un magazzino così grande e così capiente. In ogni caso, uscendo dalla nostra abitazione, direi di andare a fare un giro sul retro dell'abitazione prima di passare al resto della città. Allora, lassù abbiamo il faro della città di Frigeria. E questo perché Frigeria è una città conosciuta per il commercio di due cose. Il ferro e il salmone. Salmone che deve essere pescato. E a rigor di logica, le navi hanno bisogno di un faro per vedere dove si trova il porto. Porto che sarebbe stato costruito là dietro, dove vedete quel piccolo molo, anche se non è un molo, è una banchina in realtà. Ma è esattamente in questa zona che sarebbe dovuto sorgere il porto della città di Frigeria. Ah, tra l'altro, se vedete tutta questa netherrack intorno alla città, il motivo è molto semplice. Questo qua sarebbe dovuto essere il contorno delle mura attorno alla città di Frigeria. E credetemi che il perimetro era davvero gigantesco, ma c'è una cesta abbandonata qua fuori con il mio inventario! Ecco dov'era tutta quanta la mia roba, porca miseria. Quando ho ricominciato a fare la vanilla sul mio canale Twitch, non sapevo dove avessi lasciato il mio inventario, perché mi sono ritrovato con il nulla addosso. E abbiamo svelato l'arcano, era in quella cesta laggiù, molto bene, buono a sapersi. Qui abbiamo la farm automatica di pesca, che tuttavia in 1.14 non funziona più, ma in 1.12 era un qualcosa di strepitoso, perché farmavi un sacco di livelli e ottenevi anche un sacco di libri incantati. Mentre le altre tre casupole, questa qua con i dettagli gialli, questa con i dettagli arancioni e quella con i dettagli rossi, sono tre farm semi-automatiche di patate, carote e infine barbabietole. Ora, il funzionamento di queste farm è davvero ridicolo, mi ricordo che Tech mi ha preso in giro per il mio pessimo circuito di redstone, ma io la redstone non la so usare e non imparerò mai. E quindi questa è stata la soluzione migliore che abbia trovato, però, hey, quantomeno funziona. E l'unico motivo per cui è semi-automatica è che devo raccogliere le cose a mano e ripiantarle a mano. Dopodiché questo edificio ha tutto quanto un mezzo aperto, era in realtà la stalla in cui sono andato a far crescere i maiali. Sono semplicemente carne da macello per me, il vero simbolo di questa città è un altro. E ci arriviamo tra un secondo, però prima qua dentro... Ehi, ma ci sei ancora? Ciao Snow Golem! Questa qua era la mia farm di neve. Accanto alla farm di neve abbiamo poi il pub della città, che è molto scarno. Io sono sempre... Oh no, vi ho appena spoilerato qual è la mascotta della città. In ogni caso, personalmente mi ritengo un builder mediocre. Nel senso che non faccio cose pessime, ma non faccio neanche cose bellissime. E soprattutto, non so decorare gli interni. Sono soltanto in grado di costruire delle grandi scatole vuote. Questo edificio con i dettagli viola, invece, sarebbe dovuto essere il negozio delle pozioni. Infatti qua dentro ci sono un sacco di pre-wing stand, e la mia idea, per quanto stupida e infattibile, era quella di creare un meccanismo automatizzato attivabile mediante questo item frame, che sarebbe andato a produrre un determinato tipo di pozione e me l'avrebbe fatto cadere in testa dall'alto. Ma credo fortemente che fosse un qualcosa di irrealizzabile, perciò non l'ho mai fatto e non ho neanche mai chiesto aiuto a tech. E salve, libero sdraiato. In questo mondo vedrete un sacco di cose che, tecnicamente, con Minecraft Vanilla non ci dovrebbero essere. E questo perché in alcuni casi ho utilizzato dei comandi per far sponare delle cose. Come ad esempio all'interno del negozio del fabbro. Dove, come possiamo vedere, abbiamo degli stand che impugnano una spada, uno scudo, e poi aver voluto fare la stessa cosa con delle armor di chain e delle armor di diamante. Non ricordo bene quali fossero le mie intenzioni qua dentro. Al di fuori invece abbiamo un paio di utensili. Questa qua sarebbe dovuta essere la mola, che non rende affatto l'idea. Mentre nel giardino sul retro abbiamo la gigantesca fornace. Il luogo in cui il fabbro andava effettivamente a far smeltare tutti quanti gli orc arrivavano dalla miniera. Non c'è ancora una miniera, prima o poi la costruirò. Ma intanto abbiamo la fornace. Ho disattivato il fire spread in modo tale da creare un pochettino più di ambiente, un pochettino più di effetto. Vederlo così è parecchio figo, molto meglio rispetto alla netherrack. Ma tornando dentro la nostra città, qui, una volta, sorgeva il mercato della città. Mercato che tuttavia sono andato a distruggere completamente perché a livello urbanistico non ha senso che sia qui. Ha più senso metterlo altrove, motivo per cui nella live di settimana scorsa l'ho smontato da qui e l'ho ripiazzato all'interno della piazza centrale. Ma prima di andare a vedere la piazza centrale, vi voglio far conoscere la mascotte della città, di cui non ricordo neanche il nome. Com'è che ti chiamavi? Non ricordo il tuo nome, zio. Mi sento perso. Hello? Gervasio III. È vero, Gervasio III. E sì, è Gervasio III perché me ne sono morti altri due prima di lui. Prima di andare nella piazza, però, vi volevo far vedere al volo queste due case, ossia questa qui con i dettagli di lapis e quella laggiù con i dettagli di redstone, perché queste qui sarebbero dovute essere le due case delle famiglie ricche della città di Frigeria. Anche qui arredate con le chiappe perché non ne sono in grado, ma questa qua sarebbe dovuta essere la casa numero uno, mentre questa qua giù sarebbe dovuta essere la casa numero due. E come potete vedere sono due case dalla forma molto fantasiosa, mentre le altre sono, tra virgolette, fatte con lo stampino. D'altronde queste qua sono le famiglie ricche, le famiglie nobili, quelle che possono permettersi di fare un qualcosa di stravagante. Gli altri abitanti della città, invece, si sarebbero dovuti arrangiare con delle case standard. Ma arriviamo quindi alla piazza, al centro della quale sorge questo portale davvero spettacolare. Ne vado molto orgoglioso, credo sia il portale più bello che abbia mai costruito, e fino alla scorsa settimana il resto della piazza era completamente deserto, perché le bancarie del mercato, come detto, prima si trovavano accanto al fabbro, adesso si trovano qui. E ora della live di questa sera alle 7 saranno anche state sistemate tutte quante. Fatto sta che al di là del portale del nevere e delle bancarelle, nella piazza centrale non c'è molto altro. D'altronde è una piazza, c'hai il mercato, hai di fatto uno dei due punti di accesso alla città, uno è il porto, questo è l'altro. Ma splendori, ci manca il pezzo forte, il palazzo dello Jarl, ossia il governante di questa città, di Frigeria. Nell'ultimo episodio della vanilla avevo chiesto dei consigli riguardo al tetto, perché non mi piaceva affatto come era venuto fuori, e in live ci siamo messi lì e abbiamo cominciato a lavorarci su fino a quando non abbiamo trovato questa soluzione. E personalmente adoro come è venuto fuori l'outline dell'intera casa, o meglio dovrei dire, dell'intero palazzo. Per il momento all'interno è ancora completamente vuoto e gli ho messo temporaneamente questi tetti qua, che tuttavia credo siano un pochettino troppo bassi. Quindi potrei andare a cambiare l'altezza dei soffitti dei vari piani all'interno di questo palazzo. L'esterno ancora non ha una decorazione ben precisa, perché non riuscivo a trovare la quadratura del cerchio, non riuscivo a trovare un design che mi piacesse. Quindi ci ho lavorato un pochettino off camera rispetto alla live della scorsa settimana, ma non ho ancora trovato una soluzione. La troveremo con calma, perché al 99,9% la live di questa sera non sarà dedicata alla città di Frigeria. Pensi all'altro progetto che avevo iniziato, salvo poi abbandonare pure quello, perché mi richiedeva un sacco di lavoro off camera e all'epoca non avevo né la voglia né il tempo di starci dietro. Signore e signori, diamo il benvenuto alla città di cui non ricordo il nome. Se seguivate la mia vanilla su YouTube, l'ultima volta che avevate visto questo posto, lo avevamo lasciato così. Siete pronti a vederlo? Siete davvero pronti? Ve la sentite? 3, 2, 1, bam! Ah no, guardate un po' che disastro che ho fatto off camera. Ebbene, negli ultimi 7 giorni ho lavorato duramente per portare a termine la forma base di questa città. Città che è ispirata ad Amsterdam, in quanto sorgerà sotto il livello del mare. Infatti la città stessa si trova a livello Y50, mentre l'acqua qui arriva a livello 62. E non solo quello, faremo anche passare un corso d'acqua che partirà più o meno da questo punto, e uscirà di qua per poi scavare tutta quanta la Flower Forest e uscire nuovamente laggiù. Sì, lo so, sono malato di cervello. Come detto, ci ho lavorato molto off camera negli ultimi 7 giorni, e nella live di questa sera vorrei cominciare quantomeno a tracciare l'outline, le linee generali di questa città, che sarà fortemente ispirata ad Amsterdam e ad uno stile architettonico olandese. Se non ricordo male, avevamo deciso di chiamarla tipo Bloomville, Bloomville, ossia Villa dei Fiori, perché questo posto è conosciuto per il commercio di fiori, e a questo punto, grazie anche all'aggiunta dei più recenti snapshot, potremmo anche renderla famosa per il commercio di miele. E dunque splendori, questo qua è stato un breve tour del mondo di Inia. Avevo interrotto la serie vanilla per diversi motivi, tra i quali c'era il fatto che avessi perso interesse nei confronti di Minecraft. Questo interesse tuttavia, grazie alla 1.14, è tornato, motivo per cui ho deciso di riprendere questa serie in live sul mio canale Twitch. Sono felicissimo di essere tornato, vi aspetto questa sera alle ore 7.